Parecchio di rotazione, in questo caso l'asta ha due pesi, due dischi da 100 grammi ciascuno con i portapesi, ciascun portapesi 2,5 grammi, quindi una coppia 5 grammi, 5 grammi da quest'altra parte. Abbiamo anche dischi da 200 grammi, poi abbiamo i due mandrini, il mandrino più largo da 9 mm di raggio, il mandrino più stretto da 4,5 mm di raggio. Il filo avvolto intorno al mandrino largo, adesso, carrucola di deviazione e il portapesi da 10 grammi, peso grigio da 10 grammi e peso rosso da 20, quindi 40 grammi totali. Quando io adesso tolgo questo blocco, l'apparecchio si mette in rotazione e di modo circolare uniformemente accelerato. La sua rotazione avviene sempre più veloce, quindi l'apparecchio ha un'accelerazione angolare, intanto i pesi cadono a terra, quando i pesi saranno giunti a terra il moto si trasformerà in circolare uniforme.